Cementificio di Sapri se ne discute sabato 15 settembre alle 18 nell'Aula Consiliare del Comune di Sapri per avanzare una proposta di riqualificazione ambientale. Il convegno dal titolo Riformare il territorio, prospettive di riqualificazione del litorale di Sapri è stato promosso dalla Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli e dal Comune della Spigolatrice. L'incontro intende approfondire gli aspetti riguardanti l'urbanistica, la progettazione territoriale ed architettonica e le potenzialità di sviluppo del litorale di Sapri. Il tutto partendo dalla presentazione di una tesi sperimentale di ricerca realizzata da Vincenzo Galatro dal titolo Sapri, riqualificazione del litorale e recupero dell'edificio industriale ex cementificio. Il giovane architetto cilentano, scritto in un comunicato stampa, indica la via per recuperare il vecchio cementificio, una struttura mastodontica costruita con i finanziamenti del piano Marshall che dopo oltre mezzo secolo deturpa ancora le cartoline di Sapri. Il convegno sarà aperto dai saluti del sindaco Giuseppe del Medico e proseguirà con gli interventi di Roberto Severino, docente di composizione architettonica, di Vito Cappiello, docente di paesaggio e di Mario Daniello, docente in scienze delle costruzioni, tutti presso la facoltà di architettura Federico II di Napoli. Obiettivo del convegno fanno sapere i promotori dell'evento e di promuovere le idee che consentono ai giovani di esprimere il loro spirito d'impresa e la loro creatività. Servono iniziative di giovani menti desiderose di rimanere a vivere in questo territorio. Per questo, conclude la nota, vengono sostenuti progetti singoli e di gruppo concepiti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per generare sviluppo reale sul territorio.